Per le donne che ho incontrato, per quelle che ho dipinto, per quelle che non conosco ancora. Ho un'immagine fissa davanti agli occhi, la mia testa staccata dal corpo, portata su un vassoio come un trofeo. Devo fermarmi, fermati Manu, fermati rabbia. Medusa mi assomiglia a quel dolore che la percorre. L'ho provato tante volte e i segni mi li leggete in faccia. Come si può riconoscere la libertà? Non si tocca, non si vede, non si respira. Non si vede, non si vede.